La verità è il numero del nef della UG di Ladins, condotta alla neves della settimana. Sulla prima piatta all'erga al content per l'avvertura da neve delle svalive attività professionelle, adesso che l'emergenza è rueda della fase 2. Dopo d'altro sono fuori alla bella neve per il portale internet dei nostri foi che ha ottenuto un altro traverso importante. Della attualità se per legger del passaggio del testamone che ha chef dell'istituzione tenuto per quarantena Fabio Chiocchetti con impegno e passione sciantiva. Della approvazione del descende legge che desce risposte sconcrete a livello sociale e dell'Uriere. E dell'azione del conseglier Luca Guglielmi sulla disposizione dell'Inail che danesia ai datori dell'Uriere. Sulla piatta di Gioin Nicoletta Rizza ragionà con un Gioin da Verona che in gran amor per Fascia già fa decidere di venire a vivere nella nostra valle. E la ne conta la caratteristica esecata per piante smonumentali che le sottolinea di vita e ciò in pedale. Dopodò con Stefano Razom sono a descorirco che l'estate porta in alto la tradizione a Ciampedel e nella quarantena. Diego Agostini, un Gioin da Col, ne conta dell'esperienza vivuta della Nuova Zelanda all'Uriere con la Eves. L'Unione di Ladins di Ampet sempre vede Facebook e Instagram per slarire fuori all'associazione e in centri più gioin. Il direttore della Cassa Raiffeisen Valbadia fesce sia valutazione sui effetti economici dell'emergenza sanitaria. Sulla prima piatta di Fascia taccò con la scuola ladina che ha ingegnato i calenderi di esame per la mesene, spettando un po' l'ordenanza ministeriale. L'impende l'organismo del Comune General per chiedere i test da Gioferferra ai centadini della Val. Fora che chi di Ciampedele e Ciannacei che ha fatto chiederezza dalla provincia. Sono in ando con la problematica dell'emergenza sanitaria per quel che reverda il settore di Impiancio Portamonte. E la prospettiva per il Davenire per il settore dell'Agenzia dei Viaggis. Puzzon fora con i bibliotecari di Fascia la situazione del mondo di Libres. Con un approfondimento sulla prima rea italiana di Emprest Digitel. L'ombolte Edoardo Felicetti resone del documento del Grob de Mendranza che domana i risultati concreti per la Fasa 2. La dottora Monica Costantini ha metto a girna l'inja delle conferenze sul web in conto della specie desferenze, le ea sanità e benster. Sebastiano Valentini mette dante sia vita particolera di vivere l'emergenza sanitaria. Te sottile la soluzione del retrato pubblica la settimana passata. Adolf Demetz de Lina che vive su un plan de graalba ha metto un sema ai daci che mossa con anche la nevette della stagione passata. Il sport si è per legger della convocazione di atleti e tecnici da parte della Fisi per la stagione dell'inverno che viene. Ed ecco che la due società di ginnastica ritmica di Fascia si attiva per già per fronte alla pausa forzata. E in c'è questa settimana la rubrica di Gladia de Bertol. Sulla Ugiladins ogni vender potete trovare la neve da tutta la ladinia. Per gli abbonamenti potete viaggiare alla redazione di Fascia su Stradona Saint-Jean. Telefon 0-4-2-7-6-4-5-4-5 L'espo interladin l'enche online sul sit www.lausch.it Ote la bottega e l'espo est de tutta la vall. L'espo est di tutta la vall. L'espo est di tutta la vall. Grazie a tutti.